D di divertimento. Il divertimento non ha età. Ci si può divertire da bambini, da giovani, da adulti, ma anche diversamente giovani. Il divertimento è un nutrimento essenziale per la nostra mente. Ciascuno di noi ha una modalità differente di divertirsi. L'importante è ricordare di avere sempre la testa sulle spalle, anche quando ci si diverte. Divertimento è gioia, è sobrietà, è leggerezza. Dunque è fondamentale ritagliarsi degli spazi per il divertimento, perché vuol dire salute mentale. Grazie a tutti.